ciao una volta? si beveva un grappino una volta altro che Ghettolid eh un bel grappino si voleva non chiedevo ero un testo di fatto si ammazzi sulla grappa eh si si sta divertendo questa mattina? bello bellissimo si corre una volta che eravamo giocchi molto divertente ma te mi stai divertendo tantissimo non è bello? mi sto divertendo tantissimo aspetta che mangio un attimo che mi mangio al culo no figurati ho fatto il primo giro eh insomma lo conosci Cristian? la re di mio figlio eh senz'altro di vista lo conosco sì ma allora vuoi il brunet o quello normale? il brunet mi consiglio la grappa allora se prendi giù glielo detto tu vai giù vai a zero è una roba di giga 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 mi ha detto un altro no sbaglio no sbaglio questo è un'ingranatura su San Viterbo si per chiedere mio figlio ho fatto un'ingranatura